Appuntamento doveroso perché dopo la live di stamattina insomma ho capito che era giusto dedicare un attimino dell'attenzione a buon tavernello che è uscito ieri e in più stamattina è uscito anche Bruno quindi mi sento di dirvi delle cosette per evitare un po' di panico che secondo me si sta creando. Passiamo subito sulla schermata perché di cose da dire ce ne sono tante eccoci qua il buon tavernello eccolo qui headliner che ci osserva dal suo binocolo terzino destro 1,80m alto normale 3,3 allora già qui il discorso che mi avete fatto è alto normale è un problema no non è un enorme problema per il buon tavernello soprattutto perché parliamo di una carta A che comunque ha un costo non spropostante appositato ovvero 150.000 crediti che può essere abbassato tranquillamente con dei non scambiabili e in più il rangers ha praticamente vinto tutte le partite del campionato gliene mancano altre due quindi ha praticamente già un upgrade sicuro più qualora dovesse prendere un altro if o un eventuale motto prenderebbe un ulteriore upgrade assomigliando molto a quello che potrebbe essere un eventuale tots. Andiamo a vedere però le statistiche nel dettaglio abbiamo un 93 di accelerazione 95 di velocità scatto veramente notevoli abbiamo un 86 di passaggio corto un 81 di passaggio lungo anche qui veramente tanta roba queste due statistiche ottime anche le statistiche di dribbling in particolare l'agilità l'equilibrio la reattività buona anche la freddezza statistiche difensive che sono tutte quante messe al posto giusto tranne la lettura difensiva un'altra cosa che mi preoccupa abbastanza e l'aggressività 77 risponso finale su questo tavernier da sbloccare per me per tutto quello che vi ho detto assolutamente sì e vi spiego il perché perché fondamentalmente tenere una carta del genere all'interno del club fa sempre comodo questo qui può giocare sia terzino destro sia eventualmente switchato a difensore centrale può giocare tranquillamente anche cc in un 4 4 2 o cdc in un 4 2 3 1 eventualmente da super sub adesso le varie domande che si sono susseguite sul buon tavernello riguardano i confronti meglio questo meglio quell'altro meglio questo meglio quell'altro andiamolo ad analizzare quindi primo confronto meglio tavernier o meglio cancello cancello ce l'abbiamo qua anche lui ha alto normale di work rate io lo utilizzo e mi ci trovo bene per cui vi dicevo che non è un problema questo work rate tavernello è un po' più veloce in questo caso di cancello più o meno hanno gli stessi passaggi la cosa che secondo me fa pendere l'ago della bilancia leggermente a favore del buon cancello è quella lettura difensiva 82 quindi un più 8 perché se è vero che tavernier a breve si upgraderà la stessa cosa vale probabilmente per cancello a meno che è un suicidio sportivo del sito in champions league e queste due carte costano anche uguale con l'unica differenza che però il buon cancello ha dalla possibilità di ibridare cristiano ronaldo b linka perfettamente con walker anche tavernier però tavernier non linka con ronaldo c è scambiabile quindi in qualsiasi momento vi può prendere valore e lo potete vendere soprattutto qualora andasse a passare il turno aggressività tutti e due ce l'hanno abbastanza così e così ma vi ripeto che per cancello non è un grosso problema ma non ho riscontrato appunto un deficit in tal senso quindi per quanto riguarda il confronto tra tavernier e cancello per me l'ago della bilancia pende lievemente a favore di cancello quindi tra i due sceglierei comunque joao per quanto riguarda un altro giocatore questo è walker io qui ho failato ho preso walker il difensore centrale e non walker quello lì nella sua versione terzino che andiamo a recuperare immediatamente per fare il confronto eccolo qua allora in questo caso abbiamo velocità a favore ancora una volta di tavernello passaggi che sono molto meglio a favore di tavernello statistica anche di agilità equilibrio eccetera tutto a favore di tavernier per quanto riguarda anche le stats difensive a favore di tavernier stessa lettura difensiva addirittura molto meno forza da parte di walker e più o meno stessa aggressività oltre che con tavernier parliamo di un giocatore di 1,80 e di walker di un giocatore di 1,83 che ha un body type un po' più tarchiato rispetto a tavernier quindi in questo caso penso che il confronto sia nettamente vinto da tavernier quindi tra i due andrei a scegliere il giocatore del ranger un ulteriore giocatore che vorrei andare a confrontare è il buon Beyerin un giocatore che addirittura non ha neanche alto normale ma alto basso quindi insomma un work rate un po' esotico velocità che anche in questo caso va a favore di tavernier passaggi che vanno tutti a favore di tavernier perché qua abbiamo addirittura un 64 di lungo molto deficitario nei passaggi filtranti buone anche in questo caso le statistiche di dribbling qua abbiamo lettura difensiva che è 82 quindi questo è leggermente a favore del buon Beyerin che ha anche un buon 82 di aggressività ma ha un 66 di forza quindi in questo caso il buon tavernier è sicuramente meglio rispetto a Beyerin un altro giocatore che è stato buttato nel calderone delle discussioni tra James e appunto il buon Kleiber è proprio questo qua, carta che è uscita settimana scorsa che penso abbiate sbloccato nella maggior parte se avete questo Kleiber qui la mia risposta è assolutamente non sbloccare tavernier perché questo qua è fortissimo uguale in più ha delle migliori statistiche difensive anche per quanto riguarda l'aggressività pecca solamente un po' nel passaggio lungo ma è meglio in tutto e per tutto quindi qualora avete già questo Kleiber assolutamente tenetevelo perché fai estremamente le stesse cose se puoi giocare TD, DC, CC, CDC può fare tutto quindi se avete sbloccato già questo giocatore qua non andate a fare tavernier quindi per quanto riguarda tavernier l'analisi è questa stile intesa da terzino, DC eccetera eccetera, ancora ombra quindi vi ripeto, molto consigliato tra lui e Cancelo scelgo Cancelo tra lui e tutto il resto scelgo lui se avete già fatto Kleiber non fate tavernier per quanto riguarda sto Bruno Fernandes che è la millesima carta speciale che esce di sto Bruno Fernandes anche qua ci sono delle cose da dire perché la SBC paradossalmente costa quasi quanto il 91 quindi costa più o meno un milione e dispari però va considerata una cosa che sebbene sia un giocatore pazzesco 4-4, alto-alto eccetera eccetera ha avuto anche un boost importante di più 2 rispetto alla carta precedente guardate potenza tiro 99 passaggi precisissimi, impeccabili, super agile statistiche difensive che iniziano anche un pochino a essere decenti peccato la forza e l'aggressività il problema è un altro che questa qua mi sembra la classica SBC fatta periodo pre-Toti per farci consumare le carte perché non vi dimenticate che nel periodo di Toti usciranno sicuramente delle SBC succulente del tipo i flashback Toti come è stato con David Luiz l'anno scorso e io non nascondo la mia preoccupazione nel senso che potrebbe uscire sicuramente un De Jong Toti flashback per dirvi carte che insomma hanno stuzzicato l'appetito dei giocatori nei prossimi anni, negli anni passati e che quest'anno sicuramente non uscirà quindi io piuttosto che andare a buttare un milione di crediti su una carta che si è illegale eccetera eccetera ma comunque ci sono il 90, l'89 che sono validissimi me li terrei cari cari perché tanto arrivano a breve i Toti e spariglieranno le carte oltre che questa è una carta che comunque vi durerebbe un paio di mesi perché poi usciranno i Tozze e sarà outdated come tutte e aver sprecato un milione di crediti onestamente mi sembra un pochino eccessivo quindi piuttosto che andare a sbloccare questo Bruno Fernandes qui io onestamente preferirei andare sull'89 e il 90 qualora vogliate andare a prendere una versione speciale di questo giocatore che vi ripeto rimane validissimo non è che è uscito questo e ci possiamo inventare granché quello che può fare l'abbiamo già detto può fare il COC il CC nel rombo può fare il COC nel 4-2-3-1 allo stesso rombo il CC nel 4-4-2 il CDC nel 4-2-3-1 un po' meno e comunque rimane dietro al buon Renato Sanchez Europa League che è molto più completo su questo non ci piove rimane dietro comunque il buon Viera eccetera eccetera sicuramente si colloca sopra il buon il buon Firmino Freeze su questo non ci piove quindi raga per quanto riguarda questa questa analisi è tutto spero che apprezzate questo video che vi possa tornare utile così rispondo un po' a tutte quelle che sono le perplessità riguardanti questi due giocatori e eventuali insomma confronti vi ricordo di lasciare un like e un commento fatemi sapere che ne pensate nei commenti di questi due carte ragazzi e fatemi sapere se siete d'accordo con me con i paragoni che ho fatto vi ricordo tutte le info in descrizione per le live per le live giornaliere sulla piattaforma Viola vi ricordo anche che è uscito oggi il video sul recap delle qualifiche che vi esorto ad andare a guardare e nulla ragazzi a me non resta altro che salutarvi ciao ciao